Allora scusate per il disordine ma ho due minuti di pause quindi volevo approfittarne sia per fare merenda che per dirvi che a gennaio andrò a trovare insieme a Toreo i ragazzi della Stardust House per conoscerli, fare una piccola merenda insieme e anche per farli ballare quindi io non vedo l'ora sono molto curiosa, spero anche voi e niente vi saluto, finisco di fare la mia merenda e vado a lezione Allora scusate per il disordine ma ho due minuti di pause quindi volevo approfittarne sia per fare merenda che per dirvi che a gennaio andrò a trovare insieme a Toreo i ragazzi della Stardust House per conoscerli, fare una piccola merenda insieme e anche per farli ballare quindi io non vedo l'ora sono molto curiosa, spero anche voi e niente vi saluto, finisco di fare la mia merenda e vado a lezione